La penalizzazione di Varese aveva ringalluzzito ambizioni da playoff che la prova del campo ha riaffossato in maniera pesante facendo scontrare la VL con la dura realtà di questa primavera. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro perde anche in casa con la Givova Scafati. Un 79-86 che mette il dito nella piaga di una crisi profonda in cui Charalampopoulos mette a segno 33 punti, ma predica nel deserto di una squadra che a fatica tiene il muso avanti per tre quarti di match prima di andare in tilt nell'ultimo parziale con i campani che sorpassano e prendono largo fino a decretare la quarta sconfitta consecutiva bianco-rossa accompagnata dalla colonna sonora dei fischi e dei tifosi. Un contesto pesante da metabolizzare in fretta perché mercoledì sarà di nuovo a campionato in casa di Treviso, 4 punti dietro ai pesaresi. Nel calcio la penultima giornata di Serie C ha emesso la prima sentenza per la VIS Pesaro. I bianco-rossi perdono 2-0 Cesena e sono aritmeticamente condannati ai play-out. Partita senza storia al Manuzzi con i Romagnoli che dominano un match in cui la VIS non sarà mai pericolosa in avanti. Decidono le reti di Silvestri al 28esimo e di Cristian Spendi a tempo scaduto. La VIS scende al quarto-ultimo posto e nell'ultima di regular season Albenelli con la Carrarese avrà l'obiettivo di cercare il più comodo piazzamento negli spareggi. Sarà post-season anche per il Fano con l'Alma che blinda il quarto posto dove aver battuto 3-1 il Montegiorgio con reti di Zanni, Severini e Nappo che li lanciano verso i play-off. Nella pallavolo la Megabox Vallefoglia vince gara 1 di Challenge Cup con Pinarolo per 3-1. Dulcis in fundo la ginnastica ritmica con la marchigiana Sofia Raffaeli che tiene altissimo il tricolore alla World Cup in Uzbekistan. L'atleta chiaravallese della ginnastica Fabriano fa incetta di ori a Tashkent. Ben quattro di specialità fra cerchio, palla, clavette e nastro oltre all'oro all-around.